Musica Bella ragazzi carichi come non mai da Fiskammer Oggi ragazzi finalmente Finalmente è arrivato Finalmente è arrivato Non ci credo È arrivato il numero 9 Del Napoli Finalmente abbiamo un attaccante Un puro attaccante Leonardo Pavoletti Incredibile mi dispiace Allora premetto che mi dispiace molto per Gabbiadini Cioè non è che mi dispiace Però ci mancava qualcosa All'avanti Ma rientrerà Milik credo a febbraio Metà febbraio circa Quindi questo Pavoletti ci servirà molto In questo mese di gennaio Vi dico già una cosa Gabbiadini sicuramente al 99,6% Verrà ceduto Però per una somma almeno di 15-20 milioni Ma credo proprio di sì Perché comunque ha 24 anni all'incirca Se non sbaglio Quindi comunque è un talento Che non va buttato Mi dispiace molto per lui Perché comunque questi tre anni A Napoli sono stati Non dico il primo anno Però il secondo e il terzo Sono stati traumatici per lui Quindi Manolo Buona fortuna Ora non so se farei le ultime due partite Con Napoli Sia col Torino Che con la Fiorentina Anzi ti dico una cosa Se segni contro la Fiorentina Prima di andartene Forse non ti cediamo Vabbè comunque ragazzi A parte gli scherzi Finalmente abbiamo questo numero 9 Che ci mancava da Da Napoli Frosinone L'unica cosa che mi preoccupo Perché il giocatore ultimamente È stato infortunato Quindi mi preoccupo Solo di come rientrerà In campo Ma una cosa è certa Farà meglio Di Manolo Gabbiadini Leonardo parlo con te A gennaio Avrei una grande responsabilità Ora non so se giocherai Contro Il Real Madrid Il 15 febbraio Ma se fosse veramente così Per te sarebbe un'occasione unica Fatti amare da questo popolo napoletano Sei un bravissimo ragazzo Oltre ad essere un ottimo giocatore Quindi mi auguro Con tutto il cuore Che tu faccia Veramente bene Qui a Napoli Manolo Buona fortuna Veramente con tutto il cuore Buona fortuna Quindi la soluzione migliore Per Manolo Gabbiadini È andarsene più velocemente Da Napoli Ciao Manolo Grazie di tutto Grazie di tutto Grazie di tutto